A Bruxelles, Stadio Eisel, prima partita del gruppo 1 tra Belgio e Svizzera. Facile vittoria per i rossi di Guitis, in vantaggio dopo due minuti grazie ad un autorete del difensore rosso crociato Ludi, in seguito a calcio di punizione di Verkauteren. Nella ripresa al terzo minuto raddoppia per i belgi Kök, con un forte tiro da fuori aria. E poi, a otto minuti dal termine, Vandenberg, giunto solo davanti al portiere svizzero Borgenerg, sigla il 3-0 finale.